Ci siamo, finalmente siamo dentro! Siamo dentro, buonasera, buonasera a tutti! Buonasera ragazzi! Ragazzi e ragazze, le migliori risate solo sulle magiche frequenze di Radio R9 passo la parola al socio radiofonico per il rituale benvenuto! E allora ecco il rituale benvenuto, benvenuti a tutti sia chi ci sta ascoltando sulle magiche frequenze di Radio R9, che siate a casa, che siate in macchina che siate con il telefonino in mano a casa de Cristo, grazie che ci state ascoltando! Che c'entra poverino a lui! Grazie a tutti i presenti qui del Caffè24, sempre molto numerosi hanno avuto difficoltà di arrivare qui perché il corso di San Benedetto ragazzi è in basso, è in basso, è pieno, è in ballato di gente, è una cosa grossa sembra quando la Samba ha festeggiato la promozione, è una cosa grossa, incredibile! Sì 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 sì! Quindi grazie a tutti e benvenuti a Facciamo l'Amore, l'unico programma che fa bene all'amore e fa bene all'umore! Un altro applauso ragazzi! Emiliano ti consiglio di cominciare subito, 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 anzi comincio io va! Perché oggi siamo pieni, abbiamo una puntata piena, piena di contenuti, piena di ospiti nuovi sponsor, insomma un casino! Allora andiamo, saluti ai partner, mercoledì, After the Love, la notte degli Oscar, non ti dico altro, saluto tutti i ragazzi, Andrea Brandimarti, Mauro Neroni e tutto lo staff, After the Love non te lo perdere, mercoledì al Tarabrush! La notte degli Oscar regaleremo un fallo d'oro a tutti coloro che verranno! Non è assolutamente vero! Non è un fallo d'oro! No, no, intanto guarda chi arriva Emiliano, puoi salutare e... Buonasera, buonasera! Allora vado subito a ricordare che qualora seguiate questa puntata anche su Facebook, perché questa puntata va su Facebook, dopo le foto di Jessica Nuda c'è la puntata di ogni lunedì! Non è vero, non è vero Emiliano! A te piace prendere in giro la nostra Jessica, ma no, assolutamente no! Quindi salutiamo tutti gli amici Jonathan, sabato veramente una serata stratosferica, sabato prossimo avremo un weekend fantastico, sabato follow Jonathan e la domenica 24, domenica Illusion, torna finalmente il grande format house! Quindi domenica follow Illusion, sabato follow Jonathan, mentre io metto a folle e vado dritto verso il... No, tu stai andando dritto verso l'apertura della terrazza che ci sarà... Il 14 maggio, tempo permettendo, aprirà la terrazza di San Benedetto del Tronto, ragazzi! Incredibile, quindi sarà un party in nudi, quindi venite in terrazza tutti nudi e poi lì chi la può, la può! Mentre vorrei salutare ovviamente... Tutti gli amici del... Un altro partner che è la premiata pizzeria-ristorante Night Club, centro di massaggio musivo... Saturnia di Colli del Tronto! Saturnia di Colli del Tronto, il caro amico Simone Di Pietro, che di solito ci viene sempre a trovare qui lunedì e volevo ovviamente salutare il Casa D'Amadox... La madre di tutti! La madre, la madre, la lingua madre... Soprattutto di tutti! Il padre che lecca la lingua madre... Ma che stai dicendo? Il Casa D'Amadox di San Benedetto del Tronto, giovedì sera, Alessandrino e Oriano, per una cena veramente spumeggiante, quindi se ci siete stati, sapete già di che cosa sto parlando, se non ci siete stati andateva un affanculo... No! No! Non cominciare subito! Emiliano, non cominciare subito, siamo in fascia protetta! Siamo in fascia protetta, no, non siamo in fascia protetta caro guerriero, perché questo è un programma pensato esclusivamente per poter far dire... a me che lavoro tutta la settimana tutte le parolacce che voglio! Non è vero, assolutamente, questo è il programma per far ridere i nostri carissimi radioascoltatori e tutti... Quindi saluto mia madre e mio padre che sono le uniche due persone che ci seguono... E mio cugino, mio cugino che mi segue dal Belgio... Oh, detto questo, vi ricordiamo le nostre pagine Facebook, quindi la pagina di Facciamo l'amore, la pagina di Radio R9, tutti i nostri profili privati, tanto ormai ci conoscete, ci inseguite, ci aspettate sotto casa per menarci. Poi seguiteci anche su TuneIn o Radio.it che sono le due fantastiche app che abbiamo selezionato per voi, le scaricate, cercate Radio R9 e andate in streaming, ma mi raccomando ricordate che erodono la soglia dei vostri giga. Poi vi ricordo i contatti 366 70 52 110 e già sono arrivati i primi messaggi. Ti leggo questo. E andiamo a leggere almeno uno o due messaggini. Guarda, ne leggo solo un paio. Allora, salve a tutti, non mi presento perché ho vergogna, è perché... Ma mi diverto sempre con voi tutti i lunedì e volevo vedere cosa ne pensavate della mia piccola esperienza. Sono una ragazza, tra virgolette, di 52 anni. Ancora piacente e mi tengo in forma. Ho un seno grande e un discreto lato B. Sono separata e indipendente e mi godo la vita. Mi piace il sesso, non lo nascondo. Anzi, lo si capisce anche da come mi vesto. Tanti amanti, molti sposati, ma con rapporti ormai bolliti e molti di loro si conoscono pure, ma non sanno che fanno sesso con la stessa donna. Pensate che mio marito mi ha lasciato perché credeva che lo tradissi con tutti. E invece, quando stavo con lui, non l'ho mai tradito. Che stupidi gli uomini. Baci a tutti e complimenti. Complimenti a te, veramente. Grazie, Zuccolosa. Emiliano, che dico? No, che dico. Bravissima, bravissima, ti visti stima. Io lo sapevo che questo messaggio scatenava un vespaio. Che ne dici, Maria? Che fa di male la signora? È single, c'è un bel fisico, c'è quello che vuole, no? È infatti, no. No, ma sti mariti non capiscono che, cioè, ha detto una cosa vera, tutti gelosi, tutti gelosi. E invece? Non si fa mai un cazzo quando uno è sposato. Ah, hai capito. Cioè, tu dici il classico tutto fumo e niente è rosto. Sti mariti non capiscono proprio un cazzo. Un cazzo, niente, apposta. Fortuna che eravamo in fascia protetta. Le frasi esplicite sono della nostra poetessa scolana Alice Melodi. Cosa ne pensi? Valentina, dici, aspetta. Valentina, sentiamo che era. Ma cosa ne penso del messaggio di Alice Melodi? No, di Alice, lo sappiamo. Del messaggio, del messaggio. Cosa ne pensi? Ma vabbè, ma alla fine hai ragione, Maria. Cioè, è single. È single. Pare abbia un bel fisico anche se lo dichiari. Dice, lo dichiara. Non è che ci manda le foto. Sì, effettivamente così. Però alla fine, dai, goditi la vita, che hai 52 anni. Ora che spingi. Sei nel fior fiore. Ma Laura, che dici? Comunque, volevo chiedere cortesemente. Non sei nel fior fiore, proprio per questo. È proprio perché non sei nel fior fiore che è il caso che è. Ok. Volevo chiedere cortesemente a tutti i presenti qui del Caffè24, nel centro di San Benetto, di smetterla di mettere monetine da un euro e due euro tra le tette di Valentina. No! Non è la fessura di un jukebox. Valentina non canta. Quindi smettetela di infilarci i soldi, per favore. Ecco, andiamo avanti. Mentre la nostra sexy psicologa, che cosa pensa di questa cosa? Io do semplicemente il consiglio di invecchiare con serenità. Di invecchiare con serenità. Cioè, di appendere la vagina alla chiodo, dici tu. No, assolutamente. Loretta, a 52 anni, non è vecchia, assolutamente. No, no. Ascolta, non è la questione. C'è ancora 12-13 anni di vita. Ma anche di più! Ma perché solo 12-13, poverina? Cioè, c'è gente... Ma no! E nel senso della sessualità, una donna di 52 anni ti fa impazzire. Impazzire ti fa, impazzire. Vedi, quante opinioni discordanti, ragazzi. Che opinioni discordanti. Va bene, dimmi, Anna Laura, io aspettavo il tuo commento come l'acqua nel deserto. È Laura che oggi dice che è stata chiamata signora. No, dicevo, se lei non è una donna a 52 anni, fatte una ragione, abbi pace, mettiti l'anima in pace, proprio sirena, invecchia, con serenità. Invecchia, con serenità. E lascia stare. Guarda i due pornazzi, sta rilassata. Ma come guarda i pornazzi? Comunque la gioia la trovi anche sotto quel punto di vista. Sì, poi oggi a me il macellaio mi chiamava signora. Signora. Quarta volta gli ho detto scusi, ho capito che devo fare i 30, mi ha rotto un po' i coglioni. No! Mi dia la carne, la pago e me ne vado via. Non si dice mio. Quindi non tornerai più da quel macellaio? No. Lo stai eliminando? Ci tornerò perché dopo è andato in difficoltà e mi ha regalato due sfila. Lo elimini dalla dieta o ti sei fatta regalare due lingue di bue? Lo so, con le cattivarie si ottene sempre tutto. Anche tu vuoi morire con la salsiccia in bocca come Maria? No, io la spalmo sul pane. A posto, spalmala sul pane. Cioè il classico Magna Cilupà. Benissimo, andiamo avanti. Emiliano è morto. Stasera siamo esilaranti. Ragazzi, allora, le corone per Emiliano potete mandarle. Perché questo programma fa ridere, ragazzi, ma fa talmente tanto ridere che solitamente il nostro regista viene dalle risate. È incredibile quanto facciamo ridere. Stasera hai mangiato bene stasera, Graziano? Tutto buono? Hai mangiato bene? Era tutto buono? Non lo so, c'hai il ritardo del satellite. Era tutto buono? A posto, a posto. Perfetto. Eh no, perché c'è un po' di ritardo. Sì, perché siamo in ritardo, perché siamo con la parabola, perché siamo in diretta. Siamo in diretta, ragazzi. Siamo in diretta sulle frequenze di Radio R9, siamo live dal Caffè 24. Esatto. Quindi invito tutti coloro che sono in giro a San Benedetto, venirci a trovare, parcheggiate anche in mezzo al corso, tanto non c'è un cazzo di nessuno. Ma entrate col motorino qua dentro, è tutto bene, ma non c'è problema. Ragazzi, perché? No, il motorino no. Sì, anche il motorino. Ma perché no il motorino? Perché no il motorino? Perché questa non è una trasmissione che adatta ai più piccoli. Non è adatta ai più piccoli. Ah, non è adatta ai più piccoli. Quindi, ragazzi, se siete minorenni, per favore, non seguite questa trasmissione. No, non seguite. Spegnete assolutamente la radio, accendete U-Porn, fatevi una scotarella, rullatevi una cacioletta, ma non rompeteci i coglioni! Non dovete seguirci! Basta, ma non hai preso le medicine! Siamo di cattive esempi! Ma finisci! Ma cosa lo applaudite anche voi? Grazie, grazie. Cosa lo applaudite, lo incoraggiate? Lo vedete che non funziona la cura? Allora, compleanni, rubrica compleanni, tantissimi auguri a Luca Beni, Martina Pepe, Ilenia Pallottini, questi pensavo di averli già fatti, Veronica Falcone, è una cosa tremenda che mi guardi. Federica Marzi, Davide Fioravanti della Rua, grandi ragazzi andate avanti. Bravi, bravi, che si sono baciati, ho visto che si sono baciati. Sì, 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 stanno facendo scalpore in tutta Italia, secondo me l'anno prossimo Sanremo li aspetta. Ce lo mette in culo anche a me, vai! No, no, Emiliano, no, no. Poi, sesso non ha sesso. Alessandro Malvatani, il cantante delle trame di Rino, giovedì 5 maggio, da non perdere al Jonathan. Assolutamente. Marco Greco, Fabiano Di Bonnato, il nostro amico Fabiano, tanti auguri. Tanti auguri, Fabiano. Sandra Milena Cosentini, ci manchi tanto, Sandra. Dalla Sicilia con furore, ti vogliamo bene, Sandra, e molti ti vogliono senza bene, ti vogliono, punto. Esatto. Gianni Capretta, Valentina Assenti, Mario Fagioli, tanti auguri, Mario. Tanti, tanti auguri al collega Mario Fagioli. Il DJ Mazzu, il mio caro amico Mazzu. E poi Jacopo Gaetani, Alessandro Concetti e Davide Dodd Valenti, il regista. Davide, ex regista. Poi l'abbiamo licenziato perché non ce la faceva. No, poi l'abbiamo ucciso proprio, è morto anche lui, è morto. Compleanni famosi, sei pronto Emiliano? Vai, vai. Come al solito, ti dico, i quattro compleanni più famosi di oggi. Più famosi che abbiamo avuto oggi. Di solito il quarto è quello veramente più famoso. Allora, Fabio Caressa, auguri. Ah, va bene, commentatore di Sky. Beh, telecronista, famosissimo. Natascia Stefanenco, tanti auguri. Ho lavorato anche per lei al Maretto di Civitanova, quindi tanti auguri Natascia. Quindi la conosci anche bene. Giussi Ferreri, tanti auguri. Giussi Ferreri è bassina, però tanti auguri anche a lei. Grandi auguri. Grandi auguri, grandi auguri. Ma sicuramente la più famosa di tutti questi quattro, tantissimi auguri, Rosie Huntington, Whiteley. Rosie Huntington, Whiteley. Rosie Huntington, Whiteley. Per quando finisci a dire il nome, è già passato un anno e ora ti fai... Rosie... Chi cazzo è questa? Come ti è? Come ti è? È famosissima. Ma questa la dovresti conoscere. Ma quale è famosa? La dovresti conoscere. Un esperto di figa come te non conosce la modella di Victoria's Secret. Ma tra l'altro, fidanzata freschissima con Gesù Statham. E poi ha fatto anche una parte in Fury Road, Mad Max. Mad Max. Ha fatto la ruota della macchina. No, non ha fatto la ruota della macchina. Ma chi cazzo è questa? Ha fatto quello che doveva fare. Ma non la mette sui famosi, mettila sulla rubrica compleanni. Emiliano, ci siamo, dobbiamo presentare i temi della puntata. Tanto hai già detto che questo è un punto... Colonne portanti dove si regge questa traduzione. Hai già detto che questo è un programma vietato ai minori. Vietato ai minori. Quindi minorenni non ci ascoltate. Minorenni fuori dei coglioni. Facciamo ridere. No! Facciamo ridere. Però ecco, siamo un pizzico piccanti. Un pizzico. Lasciamo perdere. Insomma, abbiamo già tanti problemi con la polizia. Tanti, tanti. Ecco. Non ci mettete pure voi. Allora, temi. Amore, matrimonio o convivenza? Wow, pesanti stasera. Sesso, you porn o you love? Mamma mia, però. Eh, questi temi stasera. Non vedo l'ora di sapere quello che i nostri ospiti ci diranno. Buono, buono. Ma soprattutto... Sì. Poi c'è un terzo tema. Buonasera Marco. Ma tu vai all'hotel Sayonara numero uno di San Pedro. Sì, sì, sì. Per dormire o per non dormire? No, no. Si dorme benissimo a Sayonara. Si dorme, si mangia. Si dorme da Dio a Sayonara. Veramente, veramente bene. Emiliano, io non mi resta che leggerti un paio di messaggini e poi cominciamo. E poi cominciamo. Allora, ciao, oggi avevo una voglia pazza di ascoltarvi. Beh, siamo contenti. Io di solito ho una voglia pazza di trombare, ma... No! Ognuno ha le voglie sue. Emiliano, Emiliano... Dove c'è gusto non c'è perdenza. Fai il bravo che poi dopo lo sai. Vai, vai, vai. Ma mi piacerebbe anche vedervi. Perché non fate la diretta anche su Facebook? Così possiamo tutti quanti interagire con voi. E infatti più tardi mi sa che l'esperimento lo tentiamo, Emiliano. Tentiamo questo esperimento. Tentiamo l'esperimento, vediamo. Adesso ci stiamo attrezzando. Seguiteci tra pochissimo. Ah sì, dai, tutto in diretta. Attrezziamo a te, in diretta. Qualcosina facciamo. Ciao amici di Facciamo l'amore. Ciao. Ho bisogno che mi diciate se sbaglio. Quindi già parte così. Ho un fidanzato più piccolo di me di 5 anni. Io ne ho 30 e mi sono sempre piaciuti più giovani. Ma ultimamente la mancanza di esperienza di lui mi sta chiudendo. Mi sento sempre meno eccitata e sono arrivata ad innervosirmi durante un rapporto. sbaglio se glielo dico. Non vorrei arrivare a lasciarlo. Questo è un messaggio serio, Emiliano. Tu, secondo te? Ma secondo me lascio la parola a Loretta. Cioè tu te ne lavi le mani come Sponzio Pilato. Tuttono pure a questo. No, perché poverina? Perché ha un problema. Ha un problema. Basta, non posso essere sempre monotematico. Andiamo avanti. Dillo, dillo, dillo tu Loretta. Loretta, un ragazzo di 5 anni più giovane. 30-25, dai. Lui c'era 25 e lei c'era 30. Però lui si vede che c'ha un po' meno esperienza. Lei sta chiusa, capito? Non c'è esperienza. Non saprà fare i numeri, diciamo, no? Non c'è esperienza, capito? È pur vero che l'esperienza viene facendo. È. Quindi se lui, cioè se lei lo dice a lui. Cioè lei deve fare da nave scuola, dici tu. Ma se tu ti metti lì lunga e gli dici cocco de mamma, buttate qua. Che cazzo fa imparare questo? Ho capito, ma se quella gli dice. Ma che fa imparare questo? Se quella gli dice lecca qua, quello gli lecca a destra o a sinistra. E non sul punto dove. Dal tonico, ma che c'entra? Lecca qua, lecca qua, ma che è dal tonico? Ma poi dove? Cioè, ma che ne sai tu poi? Fallo dire a Loretta. In un rapporto che si può imparare anche insieme. Quindi lei potrebbe anche insegnare a lui quello che gli piace e non piace. Però, cioè, è il resto della medaglia. Se glielo dice, può impondergli. Manca tutto il mistero, manca tutto il coinvolgimento, manca il trasporto. Questa c'ha 30 anni. Lui c'ha una 25. 25. Allora, se non glielo vuoi insegnare, che cazzo te lo sei piato a far più giovane? Brava. Se non vuoi, cioè, la bocca è piena e la moglie è briana. È ambriana, ciao, buona. O te lo prendi di 40 anni, esperto. E ti fai menà giù, te giù, te giù, sopra, sotto. Via, gli dai giù. Oppure, se lo vuoi, più giovane, bello fisico, addello, prestativo. E allora non rompe le palle. Che te schizza dopo 8 minuti. Non rompe i coglioni. No, Emiliano, sì, un po' elegante. Hai risposto un po' più elegantemente. Elegantemente. Come era? Hai detto che l'amore è a crescere insieme. Quindi inizia a provare, ad andargli incontro. Non è che lui cresce e lei si ferma. A crescere insieme può darsi che lui poi, cioè, insieme si imparano tante cose. Si imparano. Poi se vedi che con il tempo ci sono dei problemi che non si possono proprio smuovere, allora è un altro discorso, ma secondo me è più mentale. Però c'è un però. Se lei glielo dice, può essere che su di lui scatena qualcosa che diventa prevenuto dopo, perché dice, tu me l'hai detto, quindi non sono all'altezza, di conseguenza lui non si sentirà all'altezza dopo. E quindi non è stimolato. La diversità. Deve essere stimolato. Cioè lei gli deve fare psicologia in testa. Insomma non c'è via d'uscita. No, non glielo devi dire direttamente. Glielo devi dire. Glielo dice. Voi vedi come reagisce, può essere che fa pure il contrario. Senti raga, posso dire una cosa? Sì. Oh, 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 posso dire una cosa? Assenti a voi, non è un rapporto questo, è un trauma. Senti Emiliano, non nascono tutti i commenti ero così freddi, imparati e Superman. Senti, allora, scusami. Abbi pietà. Faccio io la psicologia inversa. Che bello. Adesso comincio a litigare con Anna Laura. Faccio io la psicologia inversa. Visto che non c'è Anna Mocanu. Facciamo... Bello, bello. Faccio io la psicologia inversa. Non do un consiglio a te, che a 30 anni ti metterlo con 25. Do un consiglio a lui. Fate la vacanzetta, 7-8 giorni, mazzate degli uporna, rottate collo, rovai, giù, giù. Chiavati tutto quello che si muove nel raggio di 3 chilometri. E quello è un altro discorso. Poi torni dalla vecchiaccia e gli dai la cazzola chiamata come Dio comanda. Emiliano, calmati. Ragazzi, un po' di bromuro. Tempesto ormonale di Emiliano. Scusate. Prego, puoi dire quello che vuoi. Si portano, mi pare, 5 anni. 5 anni. Si 30-20. Non ho imparato questa che 5 anni ed è più. Più o meno ste melocche. Lo so, però, ultimamente, nel senso, c'è molta libertà. Io ti do un consiglio da Milf. Ti do un consiglio da Milf. Vai, vai col consiglio da Milf. Io ho i miei baby toy. I baby toy. I baby tori. Tori, tori. Toi, tori. Toi boy. Toi boy. Italiano. Si è sempre fatto. No, no. Io c'ho i baby toy. Scusate, chi c'è i toy boy o c'è i baby toy? Ognuno si fa cazzi cazzo su. Oh, no, no, no. A po' Io faccio i toy. A posto. Le basi. Vorrei insegnare a questa signora. Prego. Che è questa ragazza, che è 30 anni e ragazza. Sì, ragazza. Per insegnare al suo boy, baby, deve fare dei giochetti. Giochetti. Magari, giocando, con dei giochetti, gli insegna anche a fare certe cose. Capito, ma questa ti ha detto che sei nervosita durante l'ultimo rapporto. Tu pensa se c'ha la pazienza di stagli a fare i giochetti. Lei deve stare tranquilla, altrimenti se si nervosiscono il cazzo di cazzo di cazzo. Ti posso dire una cosa? Secondo me è il caso che cambia. Guerriero. Ma questo ragazzo non ce l'ha di indole, quello che lei... È brava. È brava. È proprio lì che ti volevo portare. Ok, cioè se non ci sei di indole, ciaone. È brava, ciaone. Emiliano, impara a dire ciaone. Anche questo è vero. Anche questo è vero. Oh, se non c'è l'indole... Ragazzi, è quello che diciamo dà una vita. Se non c'è la chimica... Senti, questo dovrebbe essere una trivella a 25 anni. Se non siete compatibili, non state a soffrire. Emiliano, cominciamo, però io non sto più... Nelle palle. Nella pelle. Allora, quelli che erano le palle, quindi... Nella pelle. Nella pelle, volevo dire... Quindi, allora, questa trasmissione, dopo... Vabbè, l'intro, giusto, perché abbiamo dovuto... Mezz'ora di intro. Abbiamo dovuto presentare prima i Whatsapp e tutto il resto che abbiamo fatto. Ora si parte, ma ragazzi, non possiamo partire... Prima di dire che questo programma è gentilmente offerto dalla ditta internazionale il centro di massaggio abusivo cinese Scotalelle! No, 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 non esiste nessun centro di massaggio... Centro di massaggio cinesi abusivo Scotalelle! Ma non lo applaudite! Lo sponsor che tutte le trasmissioni vorrebbero, assolutamente... Salutiamo le massaggiatrici Yoka Mancina di Toku Inculu, Schizza Invisu, Ingoio Tutto, che sono le massaggiatrici del centro passaggio abusivo cinese Scotalelle, che qui a San Benedetto è in zona bonifica. Quinta puttana per la destra. No, no, Emiliano! C'è un cartonato che fa finta di essere una falegnameria. Ah, c'è proprio una facciata finta. Una facciata finta, un cartonato finta. C'è scritto proprio falegnameria? Esatto. Dietro c'è il centro di massaggio abusivo cinese Scotalelle. No, non esiste! Che, come dico sempre, non è una ditta nazionale, comunale, non è una ditta regionale, non è una ditta nazionale, ma è una ditta internazionale! Quindi, ragazzi, ricordatevi che gli occhi sono a mandorla, parliamo mandarino e sbucciamo le banane! Un applauso al centro massaggi abusivo Scotalelle. Va bene, Emiliano, ci siamo. Allora, adesso possiamo veramente dare il via alla trasmissione. E qua ci vuole concentrazione. La trasmissione vera e propria parte sempre dopo le presentazioni di tutti i membri della FEPI. Presenta i ragazzi qui. Di tutti coloro che partecipano attivamente, e qualcuna di loro passivamente, alla realizzazione di questo splendido e divertentissimo programma radiofonico. E ovviamente, come dico sempre, per doveri ricontrattuali, altrimenti me ne spiegherai i coglioni, devo partire da lui. Da chi? Da te. Eh no, eh no. Lo avrete sentito alla radio, lo avrete visto in televisione o sui manifesti elettorali. Ebbene sì, è sua la voce calda che ascolta tua moglie alla radio mentre si sgrilletta selvaggiamente a letto. No, no, è vero. E' suo quel viso rassicurante che primeggia sui cartelloni ai lati delle strade con su scritto vota per me e io lo darò a te. No, no, no. Sì, quei cartelloni. Con lui che invece di un grande sorriso sfoggia il suo marchio di fabbrica, la bocca a culo di gallina. Il suo slogan elettorale è quello che ti torna in mente molte volte nell'arco della giornata. Se devi farti inculare dalla politica che almeno abbia il cazzo grosso. E io lo. La sua carriera politica lo porta prima a fondare il Movimento Cinque Pelle, poi il pompino aristocratico e in seguito il Foro delle Libertà. Per lui il referendum sulle trivellazioni in mare era solo per decidere se si poteva chiavare mentre si faceva il bagno. Intervistato dalla CNN ha dichiarato sono in politica per la figa. Se non ci fosse la politica sarebbe meglio ma se non ci fosse la figa sarebbe un problema. E donne se non ci fossero bisognerebbe gonfiarle. L'uomo che si è accorto che la sua ex era morta solo perché dopo quattro giorni ha notato che i piatti si accumulavano nel lavello ed in seguito ha dichiarato ai carabinieri. Non me ne ero accorto, il sesso era sempre uguale. Fateglielo, sto maledetto. L'uomo che è pronto a traghettare la città verso una nuova era di splendore e prosperità. L'uomo che è pronto a sacrificare il suo tempo ed il suo corpo per il piacere delle sue elettrici. Votate per il futuro sindaco di San Benedetto. Votate per la voce più sexy di Radio R9 e c'è la più grossa delle macchie. Votate per Guerriero Guerrieri! Maledetto, mi vendico subito però. Buonasera, inappetente, svogliato, triste e depresso pubblico femminile all'ascolto. Depresso e tristissimo. Ce n'è tanto, ce n'è tanto. Calma, fatemi finire, lasciatemi finire. Avete bisogno di una botta di vita? Bene! Allora rimanete all'ascolto di questa insolente trasmissione radiofonica dal titolo facciamo l'amore perché per la vita non saprei cosa dirvi. Ma una botta lui ve la darà più che volentieri. Lui chi? Come lui chi? Lui, il direttore. L'indecenza. L'immoralità. La lascivia. La lussuria. L'impudicizia. L'irresistibile. L'irresistibile scioglievolezza. In un uomo immondo. L'erede plurimandatario di Satana in persona. E qua mi arresta. Perfino Dio. Dopo averlo creato si è reso conto dello sbaglio e ha dichiarato alla stampa circa la creazione del direttore? Ho sbagliato. Forse è troppo tempo che faccio Dio. È ora di andare in pensione. Lascio l'azienda di famiglia nelle capaci mani di mio figlio Gesù. Chiedo scusa per quest'ultimo errore. Largo ai giovani. Bravo Dio. Il Vaticano sta per chiamare. Per tutti gli affiliati dell'Isis siamo nel corso di San Benedetto. Bravo Dio. È un segno di grande maturità ammettere i propri errori. Ma intanto il direttore è qua. E chi lo fermerà? Io non ho di certo. Sarebbe capace di farsi pure me. Figuratevi voi. Donne dalle carni tenere profumate. Ne farà un solo boccone di voi. E poi sputerà fuori le vostre ossicine spolpate come fossero semi di cocomero. Non ci credete, vero? Pensate che sto esagerando, vero? Spudorate. Voi non avete idea di cosa andate incontro. Sempre lì a dire, guerriero, guerriero, dacci il numero del direttore. Dove abita? Quando esce di casa possiamo andarlo a trovare pazze! Se non ci fossi io a trattenerlo voi sareste già disossate e fatte a pezzettini come un chicken McNuggets! McNuggets! Belle che sareste a pezzettini! Proprio belle! Voi non vi rendete conto che quando finisce la trasmissione io devo legarlo e immobilizzarlo ben stretto su un lettino verticale con le ruote per trasportarlo in sicurezza e devo mettergli la museruola come Hannibal Lecter! Che se no con tutte queste donne intorno comincia a mordere alla cieca e a sbavare come un labrador! Ci siamo amiche? Oggi muoio. In diretta. L'unico rabdomante a cui il suo bastone non indica l'acqua ma la ciprigna! Il prossimo referendum italiano sarà per fermare lui e tutte le sue trivellazioni! Vota sì se vuoi che il direttore la smetta di impoverire il patrimonio faunistico mondiale! Sbucherellando selvaggiamente ogni specie vivente di sesso femminile tra cui le più a rischio di estinzione, l'orango di montagna, il lemure del Madagascar, l'elefante della Sumatra, il condor della California, le vacche di Martinsicuro! Famosissime vacche! Ce ne sono! Ce ne sono tantissime! Di giorno un professionalissimo direttore di notte distribuisce il suo seme come un topping sopra una macedonia di fregna! Uno stratosferico applauso per Emiliano Ferracuti! Allora ovviamente per il gelatico apportato non mettere il topping sopra. Comunque grazie per l'applauso! Ovviamente guerriero le due presentazioni sono dozzinari e qualunquiste! Come sempre! Molto bene, molto bene! Cominciamo dai Emiliano! Se riuscissi a farlo con regolarità sarebbe molto più felice! Sesso? No! Andare in palestra! Si dedica a lui tutti i giorni per molte ore al giorno! Sesso? No! Il lavoro da Sorbino! La notte però non può fare a meno di farlo! Sesso? No! Ballare scatenata! Tutti ci chiedono ma con tutto quello che fa quando cazzo scopa? Eccolo qua! La fidanzata d'Italia, la sexy commessa, Anna Laura! Ci sto organizzando! Buonasera! Buonasera! Trovo il tempo! Trovo! Trova il tempo! L'importante è questo! Trovo una parentesi, dovete sapere tutti i ragazzi che Anna Laura sarà la presentatrice di tutti i sabato sera alla terrazza di San Benedetto per le dirette di Radio R9! Quindi... Butta la mano! Dai, questa è una notizia bomba ragazzi! Notizia bomba! Quindi chiunque volesse farsi intervistare da Anna Laura può regarsi in terrazza il sabato sera! Bene! Ci sono! Va bene! Venite a trovarmi allora! Vai! Spesso l'importante non è la meta ma il viaggio! Lei ci fa viaggiare con la mente e ci fa scoprire curiosità dal mondo! Di nazione in nazione, di piacere in piacere, tornate qui con noi perché sto per presentare la stratosferica Valentina Gumina! E dai, su! Perché no? Ma grazie! Grazie a lei! Grazie a te! Dove ci porti a sera? Non ce lo dire! Se lei non ce lo dire... Ancora stai sereno, ti lascio ancora un po' sulle spine... Lasciami sulle spine come al solito! Ragazzi, basta con le monete in mezzo alla fessura di Valentina! Lei è la cura o il problema? La curatrice o la malata? La dottoressa o la paziente? Non lo sappiamo! Quello che sappiamo è che ce lo fa venire duro con i suoi termini medici Che ci fa girare la testa con le sue curve mozzafiato Sono dislessico, scusate! E che ci fa sbandare con la sua risata trascinante e contagiosa La dottoressa che risolve meno problemi di quelli che crea La psicologa che ha più problemi di quelli che pensa La nostra Loretta Sariai! Buonasera, buonasera Buonasera, buonasera Loretta, tutto bene stasera? Pronta? Prontissima? Prendi appunti eh, mi raccomando! Molto bene, molto pronta! Sì, ho il mio taccuino! Bene! Andiamo avanti! Per lei gli uomini danno i numeri Otto le proposte di matrimonio Trecento i like che riceve ogni giorno sulle sue foto mozzafiato Due le bombe immense che tutti vorrebbero toccarle Tutti quelli che poi la metterebbero a novanta Non fanno testo! E a novanta c'è la splendida attrice Maria Amato! Grazie, grazie, grazie Anzi, volevo rispondere alla domanda di una mia amica Che mi diceva Come va? Ma sei tornata con tuo marito? Ah E tu è certo Odiavo a vederlo felice Mi sembra giusto Odiava a vederlo felice E le labrone grosse sono della potenza scolana Alice Melody Fosse per me le farei ancora più grosse Ma sì, ma gonfiali di più Ma esattamente So che Della contendenza di mio marito Ah Eh, almeno È giusto Una volta in Italia Ma fammi capire Ma non troppo Almeno i bambini in grazia di te Ma la rodate Giusto, giusto Il marito ha ragione Ma gli ha fatto il rodaggio a ste due canotti? Troppi gli ho fatto Gli hai fatto già il rodaggio? Che mi si sono spombate Eh no Ah beh, quindi gli devi dare una bottarella A posto Ecco qua No, poco Poco profonda Poco profonda Vabbè, però deve essere dimensionata rispetto al diciamo Vabbè, lasciamo perdere sto discorso Allora Allora, mentre invito Emiliano, ci siamo Il primo ospite A prendere posto Leggiamo un altro whatsapp Che stanno arrivando al 366 70 52 110 Vi ricordo che leggeremo i vostri whatsapp In forma totalmente anonima Ecco In diretta qui Dal Caffè24 E sulle magiche frequenze di Radio Renove Questo messaggino si riallaccia a quel discorso che facevi tu di Anna Laura Che farà la presentatrice delle dirette di Radio Renove alla terrazza E dice Radio Renove Ultimamente state girando tantissimo Dirette nei locali Programmi giovani Tanti contenuti State veramente dando qualità a questa città Complimenti Un applauso a te Un applauso a Radio Renove Grazie, grazie Jessica La segretaria di Radio Renove Perché No, non è lei Non è lei Non è lei È impossibile Non è lei Vai tranquillo Dopo è scontato che ce l'abbia mandato lei Allora cominciamo Che ne dici Cominciamo Allora ragazzi Abbiamo davanti a noi Il primo Allora cominciamo